Musica 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 Ciao Paolo Tirami un sasso Piero Imba con Fabio Pierulivo torna ancora una volta sulla pedana dell'Elba non so per quante volte, quante volte l'hai fatto l'Elba? Allora è dal 97 Hai mai saltato un'edizione a parte quando è stato fermo l'Elba? No ho saltato il 2018 perché mi ero tagliato la mano con una motosega e quindi ero impossibilitato Insomma, mica da poco, non è uno scherzo questo Allora, insomma, quindi quante in totale? Dovrebbero essere dal 97 a ora, fammi il conto, io a matematica non ero No, ma poi ci sono delle interruzioni, certo, dovremmo andare a vedere Però, beh, guarda, mi documento Una ventina dovrebbero essere Credo che sei tra i più longevi, 26 edizioni disputate No, no, perché poi ci sono delle demo Sì Va bene, ecco, grazie Scusi maestra, puoi andare nel frattempo facciamo due calcoli Allora, perché ecco... Asistento, via super COMU Aspetta,lio Non rimaste Oh, 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 oh. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E il sesto invece c'è Luca Caleri con Emanuele Mischi.